Tempo e trasformazione. Mi piacerebbe parlare un po' di che cosa è il tempo, perché penso che l'arricchimento, la bellezza e il significato di ciò che è senza tempo, di ciò che è vero, può essere sperimentato solo quando comprendiamo l'intero processo del tempo. Dopotutto siamo alla ricerca, ognuno a suo modo, di un senso di felicità, di arricchimento. Certamente una vita che ha significato, la ricchezza della vera felicità, non appartiene al tempo. Come l'amore, una vita simile è senza tempo e per capire ciò che è senza tempo non dobbiamo accostarci ad esso attraverso il tempo, ma piuttosto comprendendo quest'ultimo. Non dobbiamo utilizzare il tempo come uno strumento per raggiungere, comprendere, apprendere ciò che è senza tempo. Questo è quello che facciamo per la maggior parte della nostra vita, spendere tempo a cercare di afferrare ciò che è senza tempo. Quindi è importante comprendere che cosa intendiamo per tempo, perché io penso che sia possibile essere liberi da esso. È molto importante comprendere il tempo come un intero e non nella sua parzialità. È interessante capire che le nostre vite sono spese nel tempo, non nel senso di una sequenza cronologica di minuti, ore, giorni e anni, ma nel senso della memoria psicologica. Noi viviamo grazie al tempo e siamo il risultato del tempo. Il presente è semplicemente il passaggio dal passato al futuro. Le nostre menti, le nostre attività, il nostro essere sono fondati sul tempo. Senza il tempo non possiamo pensare, perché il pensiero è il risultato del tempo. Il pensiero è il prodotto di molti ieri e non c'è pensiero senza memoria. La memoria è tempo, perché ci sono due generi di tempo, quello cronologico e quello psicologico. C'è il tempo di ieri per l'orologio e il tempo di ieri per la memoria. Non puoi rifiutare il tempo cronologico, sarebbe assurdo, perderesti il tuo treno. Ma esiste un tempo del tutto distinto dal tempo cronologico? Esiste un tempo come lo pensa la mente? Esiste un tempo al di fuori della mente? Certamente il tempo psicologico è il prodotto della mente. Senza la fondazione del pensiero non c'è tempo. Essendo questi nient'altro che la memoria, ossia il ieri in congiunzione con l'oggi che modella il domani. In altre parole, il ricordo dell'esperienza di ieri in risposta al presente sta creando il futuro, che è ancora un processo del pensiero, un percorso della mente. Il processo del pensiero determina il progresso psicologico nel tempo. Ma è reale, tanto reale quanto il tempo cronologico? E possiamo usare quel tempo che è della mente come uno strumento per comprendere l'eterno, il senza tempo? Come ho detto, la felicità non appartiene a ieri, la felicità non è il prodotto del tempo, la felicità è sempre nel presente, uno stato senza tempo. Non so se avete notato che quando incontrate l'estasi, una gioia creativa, una sequenza di nuvole splendenti circondate da nuvole scure, non c'è tempo, c'è solo l'immediato presente. La mente, giungendo dopo l'esperienza nel presente, la ricorda e desidera continuarla, accumulando sempre più esperienze per se stessa. E così crea il tempo. Quindi, il tempo è creato dal di più, e il tempo è acquisizione, ed è anche di stacco, che è di nuovo un'acquisizione della mente. Perciò, disciplinare la mente solamente nel tempo, condizionare il pensiero nell'intelaiatura del tempo, che è il ricordo, sicuramente non rivela ciò che è senza tempo. La trasformazione è una questione di tempo? La maggior parte di noi è abituata a pensare che il tempo sia necessario per la trasformazione. Io sono qualcosa e cambiare ciò che sono in ciò che dovrei essere richiede tempo. Io sono avido con le conseguenze dell'avidità. Antagonismo, conflitto e infelicità. Per portare a termine la trasformazione, che è non avidità, pensiamo che il tempo sia necessario. Vale a dire che il tempo è considerato un mezzo per evolvere in qualcosa di più grande, per diventare qualcosa. E il problema è questo. Uno è violento, avido, invidioso, rabbioso, vizioso o iracondo. Per trasformare ciò che è, il tempo è necessario? Innanzitutto, perché noi vogliamo cambiare ciò che è o effettuare una trasformazione? Perché? Perché ciò che siamo non ci soddisfa, crea conflitto, fastidio e provando avversione per questo stato, vogliamo qualcosa di meglio, qualcosa di più nobile, di più idealistico. Pertanto, desideriamo la trasformazione, perché c'è dolore, disagio, conflitto. Il conflitto viene superato col tempo? Se dite che sarà superato col tempo, siete ancora nel conflitto. Potete dire che ci vorranno 20 giorni o 20 anni per liberarvi dal conflitto, per cambiare ciò che siete, ma durante questo tempo, siete ancora nel conflitto e pertanto il tempo non determina la trasformazione. Quando usiamo il tempo come un mezzo per acquisire una qualità, una virtù o uno stato dell'essere, stiamo semplicemente posponendo o evitando ciò che è. Penso che sia importante comprendere questo punto. avidità o violenza causano dolore, disagio nel mondo della nostra relazione con altri, che è la società. Ed essendo consci di questo stato di disagio, che chiamiamo avidità o violenza, diciamo a noi stessi, ne uscirò con il tempo, praticherò la non violenza, praticherò la non invidia, praticherò la pace. Trovandoci in uno stato di conflitto, vogliamo raggiungere uno stato in cui non c'è conflitto. Ora, questo stato di non conflitto è il risultato del tempo, di una durata? Ovviamente no, poiché mentre stai raggiungendo uno stato di non violenza, sei ancora violento e pertanto ancora in conflitto. Il nostro problema è il seguente. Un conflitto, un disagio, possono essere superati in un lasso di tempo, si tratti di giorni, anni o vite. Che cosa succede quando dite praticherò la non violenza per un certo periodo di tempo? Lo stesso esercitarsi non indica forse che siete in conflitto. Se non stesse resistendo al conflitto, non vi esercitereste. Dite che la resistenza al conflitto è necessario allo scopo di superare il conflitto e che per questa resistenza vi occorre tempo. Ma la stessa resistenza al conflitto è in sé stessa una forma di conflitto. State spendendo la vostra energia nel resistere al conflitto nella forma di ciò che chiamate avidità, invidia o violenza. Ma la vostra mente è ancora in conflitto. È quindi importante vedere la falsità del processo dipendente dal tempo come mezzo per vincere la violenza. E pertanto è importante essere liberi da questo processo. Allora sarete capaci di essere ciò che siete, un disagio psicologico che è la violenza in sé stessa. Per comprendere qualcosa, un problema umano o scientifico, che cosa è importante, che cosa è essenziale? Una mente serena. Una mente che si intenta nella comprensione. Non una mente che si isoli, che tenti di concentrarsi, che ancora sia in uno sforzo di resistenza. Se davvero voglio capire qualcosa, sopraggiunge immediatamente uno stato mentale tranquillo. Quando vuoi ascoltare musica o guardare un dipinto che ti piace, per il quale hai una predilezione, qual è il tuo stato mentale? Non si crea forse una sorta di tranquillità? Quando ascolti la musica, la tua mente non vaga tutt'attorno. Stai ascoltando. Similmente, quando vuoi comprendere il conflitto, non dipendi più affatto dal tempo. Ti trovi semplicemente in confronto con ciò che è, che è il conflitto. Allora immediatamente sopraggiunge una tranquillità, una fermezza della mente. Quando non dipendete più dal tempo, come mezzo per trasformare ciò che è, poiché vedete la falsità di questo processo, allora siete in confronto con ciò che è. E in quanto siete interessati a comprendere ciò che è, con naturalezza, possedete una mente serena. In questo stato mentale, vigile eppure passivo, si trova la comprensione. Finché la mente è in conflitto, biasimando, resistendo, condannando, non ci può essere comprensione. Se ti voglio comprendere, ovviamente non ti devo condannare. È questa mente tranquilla, questa mente ferma che determina la trasformazione. Quando la mente non resiste più, quando non evita più, quando non scarta o biasima più ciò che è, ma è soltanto passivamente conscia, allora in questa sua passività scorgerete il sopraggiungere di una trasformazione, se davvero siete entrati nel problema. La rivoluzione è possibile solo ora, non nel futuro. La rigenerazione è oggi, non domani. Se proverete con ciò che ho detto, troverete che c'è rigenerazione immediata, una novità, una ventata di freschezza, poiché la mente è sempre ferma, quando è interessata, quando desidera o ha intenzione di comprendere. La difficoltà per molti di noi è che non abbiamo intenzione di comprendere, perché abbiamo paura che se comprendessimo si potrebbe determinare un'azione rivoluzionaria nella nostra vita e pertanto resistiamo. È il meccanismo di difesa che è all'opera. Quando noi usiamo il tempo, o un ideale come mezzo di trasformazione graduale. Così, la rigenerazione è solo possibile nel presente, non nel futuro, non domani. Chi confida nel tempo come mezzo attraverso il quale guadagnarsi la felicità o conoscere la verità o Dio, si sta semplicemente ingannando, sta vivendo nell'ignoranza e perciò nel conflitto. Chi vede che il tempo non è la via d'uscita per le nostre difficoltà e che pertanto è libero dal falso, costui naturalmente ha l'intenzione di comprendere. Perciò la sua mente è spontaneamente quieta, senza coercizioni, senza impegno. Quando la mente è ferma, tranquilla, non alla ricerca di una risposta o di una soluzione, non resiste né evita. È solo allora che ci può essere rigenerazione, poiché essa è capace di percepire ciò che è vero ed è la verità che rende liberi, non lo sforzo per liberarsi. Ci vediamo nel prossimo video